8 febbraio 2014 l'avione e le siate saluta, saluta, saluta vieni a brindare con noi stai riprendendo nel frattempo? si, saluta saluta, saluta di nuovo, di nuovo auguri a tutti noi alla salute ciao, ma ciò io ho detto della casetta ma non hai fatto bene ma non è che scemo come se ne prende io ho mangiato il primo mi piace che serve? è migoso non c'è bisogno che la metti così non c'è bisogno che la metti così non c'è le questo è il monitor quindi se la metteva così senza fare il rumore no aspetta no no io ho un dottivo un mamma no c'è bisogno che la metti così doveva Grazie a tutti.